eccoci qua stai attento ci sono invenzioni che cambiano per sempre la storia dell'uomo la ruota certo e anche la stampa quindi ricordati questa data 1455 1455 memorizzata bene non dimenticartela più non è una data come le altre è come il 1492 12 ottobre la scoperta dell'america o il 1789 la rivoluzione francese il 1455 apre infatti una nuova era conoscere sapere leggere diventa più facile ovvero il libro comincia ad essere un prodotto industriale riproducibile potenzialmente in milioni di copie fino ad allora invece il libro era stato un oggetto prezioso per pochi una vera e propria opera d'arte confezionata a mano in pochi e rari esemplari da alcuni monaci detti amanuensi chi li leggeva i libri chi li possedeva uomini di chiesa soprattutto comunque persone di alto rango non sarà più così dopo l'invenzione della stampa ad inventarla a sorpresa un orafo un orafo tedesco di magonza si chiamava johannes gutenberg più precisamente gutenberg inventava i caratteri tipografici mobili si tratta di piccoli prismi di metallo chiamati tipi sopra ogni tipo c'è una lettera in rilievo i tipi vengono assemblati in linee unendo le linee si ottengono le pagine di testo le pagine quindi vengono inchiostrate e poi materialmente stampate sì ma come beh con un altro strumento messo a punto da gutenberg un torchio tipografico un macchinario modellato sul torchio da vino utilizzato dai viticoltori del renania li li aveva visti gli esperimenti di gutenberg su queste tecniche cominciarono nel 1450 e si concludono cinque anni più tardi appunto 1455 ricordati con la messa in commercio del primo libro stampato una bibbia diffusa in 180 copie la bibbia ancora oggi è il libro più stampato al mondo ha una curiosità dal 1455 fino alla fine del secolo i caratteri tipografici mobili venivano tenuti insieme da apposite fasce per questo le prime generazioni di libri si chiamavano incunaboli dal latino incuna inculla cioè in fasce hai capito se non hai capito ripassa qui ripassa da noi